il desiderio il desiderio ciao 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 metti uno davanti al film segna come fa Giada? come fai Giada? come fai Giada? Giada Giada che dia a noi sti due? come si fa per voi? come si fa per voi? come si fa per voi? la magri la magri la magrina ha fatto i magrini ma che fai eh? che fai che fai la magra la magra la magra la magra la magra vai bacino vai bacino oh mamma 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 dove va piccio? piccio piccio non la magra scantate un pochino ecco ora si è come mo non lo aspetta aspetta arriva? 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 vai vai grazie